Ho fatto una cosa fortissima C'è un malato Secondo me devo pagare il buio per il suonario di Alessandro Non è con la banda di giapponese? No, è la banda di giapponese con la nostra pro che non considera questa attuale era un buon appetito Quindi per niente abbiamo le Space Strike e le 3 muri e noi abbiamo un package e un package Io ho vinciso Hai evitato un po' Invento un drammo purtroppo Invento un drammo purtroppo accettato Ia viene... Non è appena l'uomo Non è scendato Ma è scendato Ma è la cosa che ha fatto Con il buchino O no Non è un buchino Non è un buchino Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. No, non la puoi fare. La posso fare. Zicela puoi usare? No, non tiه asshole. przero, comunque. Ti ho fatto di agra, spacco una corda e mi ha dato una cattatura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.